Perché tanto Togashi semplicemente non ha voglia di fare un cazzo Lui direbbe al tizio È vivo lui Lui direbbe esattamente per filo e per segno come vanno fatte le cose Ai suoi assistenti Dice fra Tu adesso devi disegnare Gon Che praticamente Si Recide Il Corpo cavernoso del pene E subito dopo Le orio C'è Capito Perché te gli succhia il cazzo No? Capito? Lui lo dice Fai questo E loro lo fanno di Non è che ci vuole una laurea Quindi insomma